Buonasera a tutti amici, cosa vi devo dire? Non avrei voluto fare sempre video sul caso di Denise Pipitone, Anna Corone e compagnia bella, ma voglio dire c'è un limite alla decenza, c'è un limite a tutto. Sono emerse nuove intercettazioni, lo vogliamo capire, sono emerse nuove intercettazioni che dimostrano tante cose nuove, dimostrano tante responsabilità, sono nuove, non nuove in senso assoluto, sono rivisitate, sono pulite da tutti quei rumori, è venuto fuori qualcosa di clamoroso, diciamo solo questo per il momento, di clamoroso. Ma queste intercettazioni dimostrano pure come sono infondate tutte le altre segnalazioni che portano a un'esistenza in vita della povera Denise, ahimè come pure la cosa di Milano, Danas, Milano e poi oggi addirittura quest'altra cretinata, scusate il termine di scalea, dove una ragazza di origine rumena era stata associata a Denise, che lei non è lei, quando poi questa non ha nemmeno vent'anni, quindi anche per una questione anagrafica, ma vogliamo fare tv, vogliamo fare scop inutili. Veniamo ai fatti, si stanno trascrivendo le nuove intercettazioni, ma poi vi dirò quali sono quelle proprie clamorose, quelle proprie clamorose che mettono, ahimè, mettono, ahimè, quasi in evidenza parossistica questa cosa qua, la verità. Ora, assume molte importanze la denuncia, la denuncia di depistaggio fatta dall'APM Maria Angioni, che denuncia il depistaggio avvenuto da parte di qualcuno, non certamente la procura, la procura era al suo fianco, ma una parte di forze legate a polizia e carabinieri, che purtroppo sono state in qualche modo, in qualche modo, sono state influenzate. Si segue l'ipotesi che porta al fratello di Anna Corona, perché poi questa è una famiglia un po' particolare, il fratello di Anna Corona, confidente dei carabinieri, in una maxi operazione che era chiamato sonno bianco, proprio legato al traffico di stupefacenti, quindi questo soggetto che è confidente, eccetera, eccetera, e allora ha avuto presumibilmente un ruolo, non posso metterci la mano sul fuoco, ma l'ha fatto capire anche l'APM Angioni, e quindi a questo proposito poi si innesca anche il rapporto particolare fra Anna Corona e l'amica Stefania, che a sua volta era fidanzata e poi ha sposato un funzionario di polizia. Questo è per vedere che si sta scoperchiando un mondo di omestà, un mondo di omestà, e quindi posso pensare pure che c'è un perché se i carabinieri nell'imminenza, la giornata stessa, furono mandati dalla procura, furono mandati a perquisire la casa di Anna Corona, dove poteva in quel momento essere la bambina, e invece fu loro indicato un altro appartamento e essi, credo in buona fede, mi auguro in buona fede, furono fatti accomodare in un altro appartamento di una vicina di casa, andarono a vedere, non si sa cosa, e quindi non si trovò niente. Quindi, adesso con le nuove intercettazioni si cala questo pelo di omestà e spero si possa portare a processo questa signora, questa signora così per bene, così incensurata, benissimo. Ora, le nuove intercettazioni, quali sono? Quali sono le nuove intercettazioni? Alcune non le diciamo, sono ipotesi, poi sono voci, poi le dirò magari più in là. Certamente, ad esempio, una che è uscita del colloquio fra le due figlie di Anna Corona, Jessica e Alice, ma è incontrovestibile, ma come si fa? In cui si dice, è stata mamma, mamma l'ha uccisa a Denise e l'altra sorella dice, ma come? Veramente l'ha uccisa? Dice, sì, però ti devi stare zitta, non devi parlare. E l'altra sorella lì ci dice, certo, certamente mi sto zitta. ma ora questo non significa niente, non significa niente, non se ne dà conto di niente. Poi, un'altra intercettazione inequivocabile che è una telefonata che arriva a casa di Anna Corona e si sente la voce di una bambina e dice pure è pronto e lei la zittisce, stai zitta, stai zitta. Ora, chi era questa bambina a casa di Anna Corona? Anna Corona non aveva nipotini all'epoca, piccoli, non c'erano altri bambini a casa. Benissimo. Ma la cosa forse la più grave, la più clamorosa di tutte è l'intercettazione fra due uomini, attenzione, questa avvenne, vi dovete capire bene, questa intercettazione avvenne circa due mesi, esattamente cinquantacinque giorni, erano passati cinquantacinque giorni dalla sparizione di Denise. C'è un'intercettazione ambientale di due uomini che si trovano su un motorino sotto casa di Anna Corona, sotto casa di Anna Corona, il motorino è di Jessica, è di Jessica. Essi si chiamano, uno si chiama Peppe, dice Peppe, dove dobbiamo andare a prendere a Denise, andiamola a prendere, dove la dobbiamo portare, fa l'altro, dove la dobbiamo portare, la dobbiamo portare fuori, fuori, come se fosse partito l'ordine di spostare, di portare Denise da qualche altra parte, evidentemente, dopo cinquantacinque giorni, quindi una Denise che ovviamente era ancora in vita. Quindi questa è una una intercettazione fondamentale, fondamentale, che avviene fra due uomini su un motorino di Jessica sotto la casa di Anna Corona. E quindi, e quindi, perché? Perché non si è fatto niente? E addirittura poi, qualche giorno dopo, un testimone sordomuto dichiara di averla vista e imbraccia a questo signore che lui chiama Peppe. Allora, vedete, se ad un certo punto dopo circa due mesi c'è stata questa intercettazione, allora vuol dire proprio chiaramente che quell'avvistamento un mese dopo a Milano di Danasa, eccetera, non può essere come ho già avuto modo di dire. ora, un'altra cosa ancora, altre due, altre due ve ne voglio dire e basta, altre due. Però questa è clamorosa, questa che vi ho detto adesso, clamorosissima, ma questa qua non è da meno. Una telefonata fra un amico di Anna Corona, questo amico nell'imminenza, cioè lo stesso giorno o il giorno dopo, se non sbaglio, chiama, la chiama. Lei, che sa di essere intercettato, lo blocca subito e dice ma zitto, no, non dite niente, che stai dicendo? Zitto, hai letto che è stata rapida dalla bambina, Denise, l'hai letto, quindi l'hai letto sul giornale e non mi chiamare più, non mi chiamare. Dall'altro camera del telefono questo tizio dice no, ma io è perché ti volevo solo risolvere il problema, stai dicendo, ti volevo solo risolvere il pro... Zitto! Ti volevo solo risolvere il problema. Qual era il problema? Evidentemente questo era uno che sapeva quale problema voleva risolvere in quel frangente e lei lo stoppa e dice non mi chiamare più e basta non lo fa parlare più e lui dice sì 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 e il dialogo è un dialogo a senso unico in cui c'è una chiara intonazione mafiosa un'intonazione di una donna perentoria quasi minacciosa però lui sfugge io volevo solo risolverti il problema benissimo non fa niente questo amici non fa niente per arrestare una donna per mandarla a processo non è significativo nemmeno questo benissimo e allora quando quell'altra intercettazione nel commissariato quando vennero convocate perché subito si disse subito i sospetti su di loro allora la mamma parlava con Jessica e Jessica gli disse è venuto è venuto papà che entra in commissariato entra in commissariato e appena vede la figlia dice dove sta Denise dove come se il padre sapesse avesse coscienza che sono stati loro o comunque qualcosa che conduce a loro cioè il padre di Jessica il pulizzi non è che entra e dice come state che è successo che dice figlia mia no dove sta Denise capisce capite nell'imminenza il papà di Denise entra e dice vicino alla figlia Jessica dove sta Denise dove l'avete messa Denise benissimo ci sono nuove intercettazioni si stanno pulendo amici miei si stanno scremando è caduto il velo di omaestà queste indagini fatte un po' così anche perché ci stava qualcosa che non guardava nelle forze dell'ordine e c'era solo la procura la procura soltanto che indagava in quel momento benissimo allora facciamo in modo che venga a galla la verità venga a galla la verità va bene quindi sono veramente un po' addabbiato perché non si prendono ancora provvedimenti e si fanno ipotesi concetture scalea l'avvistamento Milano la Calabria non c'entra niente dall'intercettazione sta emergendo tutta la verità seguitemi seguitemi ci saranno novità molto presto ciao a tutti ciao a tutti